Tutti giù per terra può sembrare il ritornello di una famosa canzone che viene utilizzata tantissimo nei giochi con i bambini in asilo ma fa parte di tutta la nostra tradizione infantile cosa voglio dire con il tutti giù per terra è un'esortazione per genitori adulti insegnanti educatori nonni chiunque ruota intorno al piccolo bambino dalla nascita fino all'anno di vita a tenere il più possibile il bambino a contatto con la terra con il pavimento con le diverse possibili limitate superfici con le quali il bambino viene a contatto e deve venire a contatto questo ha un significato importante ancora prima che dal punto di vista pedagogico proprio un significato dal punto di vista sensoriale è fondamentale che il bambino il cui unico e principale strumento all'inizio di esplorazione di conoscenza del mondo è il proprio corpo la propria pelle oltre che tutti i sensi chiaramente di cui dispone sia il più possibile a contatto appunto con il mondo che lo circonda grazie a tutti grazie grazie a tutti